ho messo la macchina in garage però questo si è bloccato doesn't work frozen, totally frozen siamo pronti c'è prima da togliere la neve e dopodiché speriamo di farcela ce la facciamo dai let's go ok la scopa qui è tutto bloccato è tutto bloccato ok 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 passa se no qui no aspetta trofocano aspetta adesso questa puoi andare dall'altra parte e tirare il telo piano piano ok tira 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 si si la viene tutta la neve ok Grazie a tutti 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 E' fantastico Guarda che bello Grazie a tutti 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 vediamo dove mi porto la questa strada direzione Bratislava paesaggio fantastico e nevica questa strada non l'ho mai fatta quindi vediamo dove andremo e ne vienere e ne vienere e ne vienere Grazie a tutti.